Il Viale della Vittoria ad Agrigento si risveglia come nel 5 marzo 2014, palazzi evacuati, famiglie sfollate, le macerie. A crollare era stata una porzione di costone, sui palazzi crea. Anche questa volta la paura, ma nessun ferito, l'espressione tipicamente agrigentina, san giurlanno senza danno, si è avverata ancora una volta. Sono le 4 siamo all'altezza di piazza Cavour, dove c'è il Barsaieva. Da mesi l'immobile è circondato da un'impalcatura, una ditta di Favara con la supervisione dell'ingegnere Bellia sta eseguendo dei lavori. Crolla l'impalcatura, forse per il distacco del cornicione. La zona si trasforma in un campo da guerra, gli abitanti vengono fatti scendere per strada. L'aria è sequestrata, la viabilità bloccata. Sul posto le forze dell'ordine, tecnici, periti, l'amministrazione. Abbiamo sottoposto a sequestro l'aria, c'è un indagio di polizia giudiziaria in atto condotto dalla polizia locale, quindi non possono essere le rascende di dichiarazioni. Posso soltanto dirle che le famiglie sono state tutte evacuate e la zona è stata messa in sicurezza. Quante palazzine sono state evacuate finora? Due palazzine con una decina di famiglie su per giù, quindi adesso stiamo valutando l'entità dei danni. Quando si pensa potranno ritornare a casa? Questa non glielo posso dire al momento perché come le dicevo prima c'è un'indagine in corso. Ovviamente prima di consentire l'accessibilità anche agli altri edifici vicini occorre fare le opportune verifiche. Quindi diciamo che possiamo già anticipare l'inagibilità per rischio esterno degli edifici vicini e quindi la delimitazione delle strade, la chiusura totale delle strade vicine e la parziale chiusura di via della Vittoria. In prefettura c'è stato un tavolo per la messa in sicurezza dell'area. Naturalmente le cause del cantiere verranno verificate da altri, quindi ci sarà un'indagine, ma il tavolo in prefettura è stato fatto per la messa in sicurezza dell'area. Quindi si è parlato di viabilità e si è parlato di garantire la pubblica incolumità anche nelle palazzine accanto. Per cui questo pomeriggio contattando anche gli amministratori dei condomini si farà un elenco di tutte le persone che abitano la zona e si deciderà il da farsi. Intanto la viabilità verrà riaperta per metà carreggiata in modo da limitare al massimo il disagio alle persone. Quali saranno le palazzine evacuate? Avete una contezza sul numero di famiglie che dovranno lasciare casa? Questo è tuttora in corso, per cui si stanno verificando sia quali sono le palazzine che eventualmente dovrebbero essere soggette a sgombero, sia il numero di persone all'interno delle palazzine. E poi c'è anche, chi non si è accorto di nulla, sogni tranquilli per una residente, l'ultima ad essere sfollata. Ci racconti com'è stato questa notte? Com'è stato? Io non ho sentito nulla. Maria Carmela, la mia vicina di casa, l'avvocatessa, ha chiamato alle sette di mattina e dice che c'è. E che ne so, io ora mi sono svegliata. E mi ha raccontato quel che si era successo, il crollo del cornicione e quindi il balcone, a quanto pare la ringhiera, che io tra l'altro di qua non riesco a vedere. È caduto tutto il balcone o solo la ringhiera. Ma adesso che vi hanno detto? Vi hanno fatto evacuare? col peso, col peso danneggiato.